Seduce lei in 7 ore, il tempo del corteggiamento dovrebbe durare mediamente 7 ore, inteso come 7 ore il tempo totale trascorso con una donna o impiegato a mandare messaggi insomma. Diciamo che dovrebbe andare mediamente 7 ore però dalle 4 a un massimo di 10 perché se al di sotto delle 4 ore è rischioso può succedere ma è un po' un azzardo e invece al di sopra delle 10 ore le possibilità si riducono drasticamente e rischi soltanto di perdere tempo. Allora il processo poi di seduzione deve essere formato da 3 fasi, 3 macrofasi fondamentali. La prima fase è quella in cui devi generare interesse, devi generare una sorta di attrazione tra virgolette ma soprattutto interesse. La seconda fase è quella detta del comfort cioè farti percepire come una persona con gli stessi valori, le stesse credenze, la stessa visione della vita e questo è fondamentale perché vai a disinnescare tutti i meccanismi di difesa logico-razionali. E poi c'è la terza fase che è la seduzione e quella sessuale, arrivare alla sessualità. Allora la fase dell'attrazione come si sviluppa? Beh la fase dell'attrazione è molto semplice, si sviluppa facendoti percepire diciamo come una persona interessante quindi creando dubbio, creando mistero. Ovviamente devi essere percepito, in qualche modo devi farti percepire come maschio alfa cioè come un uomo che piace ad altre donne e come un uomo leader di altri uomini. Questa è la definizione di maschio alfa, non importa che tu lo sai veramente però devi farti percepire così. Puoi farlo ad esempio interagendo con questa donna, iniziando diciamo prima a gratificarla un pochettino poi togliere un po' la gratificazione e squalificarla un attimo con qualche commento acido fondamentalmente. È molto importante questo perché si incuriosirà, inizierà a dire ma chi è questo, ma come mai? Soprattutto quelle belle che sono corteggiate da molti uomini quando vengono un po', ti comporti in modo un po' irreverente ti comporti in modo un po' umoristico ma usando l'ironia ma un'ironia un po' pungente, gratifichi. Successivamente devi creare comfort, farla parlare di te, farla parlare di sé in modo tale che parlando di sé tirerà fuori le sue emozioni, si creerà una connessione forte. E poi c'è la seduzione tra virgolette sessuale che te la giochi sul non verbale cioè devi avvicinarti con la scusa degli orecchini, le sfiori le orecchie, le sfiori il collo insomma tutta una serie di atteggiamenti non verbali che se hai fatto bene i passi precedenti la porteranno rapidamente a letto con te. Poi vedremo come farlo nei social.